Si è insediato il 9 settembre scorso il nuovo comandante provinciale dell'Alma dei Carabinieri di Pescara, colonnello Eduardo Gambardella, che prende il posto del colonnello Marco Riscaldati, trasferito a Roma per un nuovo prestigioso incarico. E proprio dalla capitale arriva il neocomandante che questa mattina, in occasione di un incontro con la stampa, ha parlato del suo nuovo incarico. Devo dire che è una realtà molto bella, ma anche e soprattutto complessa. Sono sicuro che faremo bene così come è stato fatto fino adesso. Sicuramente saremo molto presenti e vicini alla cittadinanza. I miei precedenti incarichi mi hanno consentito di lavorare in realtà complesse della Campania. Qui cercherò di mettere a frutto tutto quello che ho fatto in passato.